Elogio da parte dell'assessore dell'agricoltura Gabriella Murgia alle proposte di legge presentate dal consigliere regionale Giuseppe Talanas che sono state illustrate nei giorni scorsi nel corso di un convegno al Nuoro. Il nostro comparto Vicaprino è la maggiore industria della Sardegna, evidenzia l'esponente della giunta Solinas, e va sostenuto con il massimo impegno, non solo per il suo valore strettamente economico, ma anche per contrastare lo spopolamento, presidiare il territorio e tutelare l'ambiente e il paesaggio rurale sardo. Secondo il consigliere Talanas, un fermo introdotto nel tempo garantirebbe un doppio beneficio, un maggiore benessere degli animali e quindi una migliore qualità del latte. La sola riduzione della produzione, sottolinea l'assessore dell'agricoltura, non garantisce un aumento del prezzo. Il settore sconta una serie di debolezze strutturali, a cominciare dall'eccessiva frammentazione, con la prevalenza di imprese che conducono allevamenti di piccole e piccolissime dimensioni, condizioni che rendono impossibile economie di scala e non consentono di affrontare la variabilità dei costi di produzione. La regione quindi deve aggredire queste debolezze strutturali, conservando il patrimonio Vicaprino e favorendo le forme di aggregazione della produzione, che consentano di bilanciare i rapporti commerciali all'interno e all'esterno della filiera. La seconda proposta di legge, finalizzata alla tutela e alla valorizzazione delle tre razze bovine locali minacciate di abbandono, ha un obiettivo nobile e condivisibile che, a ben vedere, è contemplato dal PSR Sardegna 2014-2020. Un'ipotesi di intervento, conclude l'assessore dell'agricoltura, potrebbe essere quella di impiegare le risorse previste come finanziamento regionale integrativo del PSR per ridurre i termini di attuazione dell'intervento, già approvato dalla Commissione europea.